Ciao ragazze e ciao ragazzi, video recensioni come quello precedente e gli altri due dei prodotti che non vi ho mostrato nei mesi in cui non ci siamo visti sono 5 prodotti, con questo finisco la carrellata vi ricordo di farmi sapere se preferite i video prodotti separati nel senso tutti prodotti finiti, tutti gli acquisti e tutte le recensioni in video separati oppure come facevo prima tutti insieme fatemi sapere, più che altro per la durata eccetera, fatemi sapere voi comunque, giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che ora vi mostro e iniziamo con le recensioni il primo prodotto che vi devo recensire è questo questo è un campioncino del Roche-Posay è un... un altro che trovo... ah ecco qua trattamento anti-perfezione correttivo e purificante testato su pelle a tendenza acneica senza parabeni questo era un campioncino, me lo porto mia sorella da 3 ml eccola qua, è una cremina trasparente che va messa sul brufolo e dovrebbe aiutare a favorire la guarigione del brufolo a disinfettare la parte... comunque il brufolo è un'imperfezione un... come si dice... un... oddio... mi dice il termine è un'infezione o qualcosa del genere della pelle e allora questo trattamento aiuta a sgonfiare più che altro il brufolo... in questo momento c'è un brufolazzo qua però ancora devo metterla comunque aiuta a sgonfiare e a lenire la zona da trattare quindi la zona con il brufolo e non aiuta tanto a ridurre il momento... il periodo in cui il brufolo scusate... mi sta addosso ma aiuta molto a farlo diminuire di dimensioni di... è quasi un curativo nel senso ci sono altri prodotti del genere ma che vi aiutano a far passare prima il brufolo perché anticipano la vita naturale del brufolo invece questo tipo di prodotto vi permette di... la settimana deve stare il brufolo ci sta una settimana però è meno gonfio, meno dolorante non si infiamma... è perfetto e mi piace un sacco so che questi prodotti costano mia sorella me li ha portati... ne avevo forse un paio sì, un paio così... da testare e ho sistemato diversi brufoli sia qui sul viso me ne è riuscito recentemente uno in mezzo al seno e ne ho messo una sola volta se l'ha fatto bello grosso ne ho messo una sola volta e si è appiattito non è più rossissimo e piano piano ugualerà da solo però aiutano tanto adesso metto io asciutto questo prodotto secondo prodotto è il top coat della Debbie nel therapy top coat è un top coat brillante trasparente della Debbie da 7,5 ml con classico... oddio... ok si è aperto con classico pennellino niente di particolare è un classico pennellino questo top coat rende l'unghia effettivamente molto brillante molto doppia tipo effetto gel anche se non dice di essere un effetto gel ha una piccola pecca nel senso fa durare lo smalto sulle unghie per 5,6,7 giorni tranquillamente l'unica piccola pecca è che ha l'asciugatura stralentissima nel senso mi è capitato più volte di metterlo di fare la manicure il pomeriggio quindi trascorso tutto il pomeriggio tutta la serata tranquilla me ne sono andata a letto il giorno dopo mi sono ritrovata con gli stampini delle lenzuola sulle unghie quindi rimane molto gommoso e ha difficoltà ad asciugarsi se lo metto la mattina ok tranquillamente poi mi faccio la settimana tutta tranquilla con lo smalto perfetto ma se lo metto il pomeriggio mi lascia gli stampini quindi l'asciugatura stralentissima il problema è che è troppo gommoso l'effetto brillante ok ci sta non lo metto in dubbio ma non lo comprerei perché è una perdita di tempo io voglio uno smalto che si mi renda brillante l'unghia ma mi si deve asciugare non è che dopo 7, 8, 10 ore sei ancora glad che devi asciugarti no altro prodotto per unghie è una liva in vetro della L'Oreal Paris queste sono quelle classiche lime in vetro sinceramente questa è la mia prima lime in vetro e quando l'ho utilizzata perché ora non è più utilizzabile non sapendo che erano così delicate ho esagerato e l'ho rovinata allora la prima volta che l'ho utilizzata prima e unica volta ho grattato eccessivamente per poter accorciare l'unghia e l'ho scavata l'ho rovinata quindi non l'ho più utilizzata quindi ora che finirà il video l'andrò a cestinare è stato un prodotto che mi ha deluso perché non conoscevo come funzionavano questi tipo di lime quindi che erano lime buone per piccole scheggiature per rifili del lavoro io pensavo che fossero una lima tra virgolette classiche quindi potevo andare là e grattare ci sono rimasta male ora lo butterò nei prodotti da buttare e quindi la rivedrete un'altra volta però non mi è piaciuta un altro prodotto la ciambella per fare lo chignon questa è di H&M è la più piccola che ho trovato questa è la sua grandezza ho tutte quelle in circolazione questa per me è la grandezza ottimale perché questi sono i miei capelli se uso quelle più grandi quando vado a girare mi si vede la spugna quindi quando ho visto questa ho detto no me la devo comprare è mia mi ricordo neanche quanto quanto costa 9-2 euro qualcosa del genere comunque la provo la grandezza ottimale per me ovviamente faccio la coda faccio passare i capelli avvolgo il restante lo attorciglio lo rotopo l'effetto è bellissimo mi piace un sacco questo sia avevo preso anche quella un pochino più grande dai cinesi ma mi si vedeva quindi l'ho dovuta dare a mia sorella e le esce un bello scignanciune comunque mi è piaciuto mi piace anche fare tipo lo scignone quello a codina che ho tirato su soltanto il codino e ho usato lo scignone pure riesco a farlo abbastanza bene anche se ho di meno di capelli da girarci intorno però non si vede quindi per me questa è la grandezza ottimale è perfetta ultimo prodotto ancora un prodotto per capelli è questa fascia con le trecce questa è della Pop si è una fascia a quattro trecce di capelli che sembrano veri alla vista ma sono sono capelli sintetici il numero è Pop Brr quattro Brr vabbè dove sta Gold Blonde Trio ecco qua è una fascia va messa bene nei capelli ha quattro quattro fasce di quattro trecce l'effetto è molto simile ai miei capelli cioè relativamente a poco stacco mi piace l'unica ha una caratteristica per non far scivolare la treccia al di sotto c'è su ogni fascia un pezzo di silicone quindi va a traghetta agganciarsi bene e a non scivolare sui capelli questo qua è l'effetto dietro ovviamente c'è un elastico che mi si è slabato quindi ora devo vedere di ricuscire poco poco perché se no mi è troppo largo sui capelli una cosa che mi è piaciuta l'ho usato anche per chiudere uno scignone dopo che avevo tirato indietro i capelli e fatto tutto lo scignone ho concluso la pettinatura arrotolando intorno allo scignone la treccia evitando di far vedere l'elastico avanti quindi lo messo indietro l'effetto era carino perché si era lo scignone tutti i capelli rotolati e lei che chiudeva ho chiuso anche delle code pure l'effetto è carino per evitare che si veda l'elastico a volte si prende il capello lo si arrotola intorno invece io ho preferito qualche volta indossare questa vede l'ho arrotolata e la fascia di dietro ho cercato di evitare che si vedesse quindi l'ho nascosta dietro però l'effetto è molto carino la prima volta che l'ho usato tipo per un matrimonio ma di ogni mio cugino mi aveva fatto tutti i capelli boccolosi e avevo messo la fascia l'effetto era veramente dolcissimo sembravo un appetticatore molto romantico molto carino mi è piaciuta come effetto ok video recensioni finito spero che vi sia stato utile spero che ci vediamo nel prossimo video non lo so vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazze ciao ragazzi in gamba